La mia casa deve essere accogliente, calda, originale e pratica. Allora andiamo da Centro Mobili GS, con più di 1000 metri quadri di esposizione. Possiamo scegliere tra mobili, arredi, complementi di arredo, mobili nuovi ed usati. E Centro Mobili GS, anche una propria produzione di arredo esterno, realizzata con materiale riciclato. Centro Mobili GS, in via Petrusa a San Rufo, vicino al centro sportivo meridionale, aperto anche la domenica mattina. Su ogni acquisto superiore a 100 euro, un grazioso omaggio. Tutto sognato.